nella perfezione del tutto nella perfezione del tutto a che servono le zanzare commento servono come preda agli anfibi ai pesci agli uccelli insettivori alle libellule ai pipistrelli alle lucertole ai gechi alle formiche ai ragni negli ambienti domestici dove i predatori naturali sono assenti le zanzare servono a inoculare nell'uomo l'esperienza di molte malattie anche gravi